Ciao a tutti, nel video di oggi, il piccolo Leo, aiuta papà Fedez a scegliere il pigiama per la notte, aiutandolo anche ad indossarlo. Poi, da bravo bambino, sistema tutti i cuscini sul divano. Vi lascio al video, buona visione. Il pigiamino, amore. Questo, questo. Quale vuoi che metto? Questo pigiamino? Sì. Vai, tira fuori, prendi, tira, vai, tira, tira. Ah, quella lì vuoi? Quella lì. Questa qui? Questa. Ok, vai. Questa qua? Sì. In metallica? Sì. Ok, e i pantaloni? No, non ce li ho già, amore, i pantaloni. Non ce li ho, questi qui sono eleganti, amore. Questi sono belli. No, metti, scegli una tuta. Questi. Questi qui? Sì, sono belli. Sono belli? Sì. Ok, ok. Tieni, papà. Ok, vieni. Tieni, papà, tieni, papà, tieni, 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 tieni. Amore, no, ma mi devo cambiare, amore, no! No! Amore, va che cadi. Qua sei brazzo. Ok, e la testa? Mi aiuti? Sì. Bravo! Leone, Lucia? Sei nanni. Leone, Lucia, sei nanni. La mamma che si riposa e Leo che mette a posto tutti i cuscini che ha lanciato. Ma che bravo, bimbo. Ma sei preciso adesso, bravo. Mamma mia, veramente. Guarda, sei un interior designer, amore. Ma che bravo, amore. Ma che bravo. E' stato un misterio che ha fatto dei cantelli a questi fatti e a questi film. Matteo le mandi con la foto del flash della fama posta e il successo. E' stato un tavolino. Per il Salone del Mobile 2021 ho ideato il Tavolino Ferri. Oddio, è un po' instabile. No, non è instabile, guarda. Non è instabile. Sembra instabile, ma... Tavolino Ferri. Ciao amici, stiamo girando il videoclip della canzone di Sanremo. Si chiama Chiamami per nome. E basta, non vi diciamo più niente. Ciao. Nulla. Ciao, ragazzi. It's an interview from bed. Kind of morning about the new collection and capsule collection coming up from Chiara Ferragni. Yesterday I watched this movie that somebody suggested me called Enemy. And he was so psychological, but so fucked up in a way. I don't know, it kind of makes you think a lot. Porta. Ma è una porta, diciamo, moderna. Ma è un po' di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.